La nocellara è un'oliva particolarmente versatile perché è un'oliva adatta sia al consumo come oliva da mensa che come oliva per olio. Riesce a dare un prodotto sotto forma di olio che è definito come fruttato medio. Fruttato medio significa che ha livelli di piccantezza e fruttato e amaro abbastanza percepibili ma non così presenti da coprire i sapori di un'eventuale pietanza. Infatti il suo uso, come da parte lo chef può confermare, può essere su svariati campi, dal pesce alla carne, in genere non rossa, ma può anche partire dall'antipasto fino al dolce perfino. È un olio con denotazioni floreali ed erbacei forti, sapore di carciofo con un finale retrogusto di mandorla. È un livello di piccantezza abbastanza alto come dovrebbe essere per tutti gli extravergini freschi, appena moliti, perché la caratteristica principale di un olio giovane dovrebbe essere la piccantezza ovunque sia sta, da qualsiasi provenienza abbia.